amiche e amici di tutto motori ben ritrovati sono sempre io le arco menabue della concessionaria francesco menabue centro riparazioni peugeot a modena in via emilia est 1181 parlando in questi primi giorni ho visto qualcuno di voi che è rammaricato perché sono finite le vacanze ma non deve essere così perché è finita una cosa ne inizia un'altra siamo alla peugeot siamo qui da noi nel nostro salone iniziano le promozioni d'autunno sono molto interessanti e riguardano l'intera gamma peugeot appunto dalla piccola 108 ricordo mille di cilindrata la city car ideale per muoversi nel traffico cittadino poi c'è da non dimenticare il nostro fiore all'occhiello l'utilitaria per eccezione peugeot 208 anche gpl adesso in questi momenti dove le amministrazioni pongono dei limiti un attimino restrittivi per quanto riguarda la circolazione gpl 82 cavalli impianto montato di serie anche a chilometri zero per i prezzi ci venite a trovare ma sono sicuro che troverete quella che vi serve non dimentichiamo l'altra l'altra gamma la diciamo così perché dopo delle altre novità da sottoporvi peugeot 2008 il suv e il peugeot 3008 che continua andare fortissimo le novità quali sono vi volevo anticipare che prossimamente avremo nel nostro salone il nuovo rifter la vettura multispazio che sostituisce il partner e perché no anche l'ammiraglia la peugeot 508 berlina e con suetudine terminare lo spazio a mia disposizione con l'usato qui vediamo una bellissima rcz 2000 turbodiesel immatricolata nell'anno 2011 una macchina veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista sempre una peugeot la vediamo insieme è una station wagon è una 308 ha percorso circa 100 mila chilometri per chi vuole una macchina con un prezzo interessante molto spaziosa ed affidabile peugeot 308 anno 2012 passiamo davanti a questa peugeot 208 gt line tetto panoramico navigatore 120 cavalli 6 marce una macchina per tutti i giovanotti terminiamo con questa mercedes classe a 180 turbodiesel anche questa molto bella non ha percorso ancora 100 mila chilometri unico proprietario bene ricordandovi che le occasioni sono sempre tante ed interessanti le arco menabue la concessionaria francesco menabue a modena in via emigli est vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti